Che cosa fai? Eh? Cosa hai fatto? Vedo il mio riflesso. Fai un'altra volta. Lavora? Sì, do ripetizioni ai bambini. Va bene, ritardata. A me non servono queste ripetizioni di merda. Ho conosciuto una persona molto speciale. E siccome tua madre è morta, è Flora ancora viva. Ed è molto carina. Non dico che Flora sia meglio di tua madre, però... Secondo te sono più grassa? Africa, sei bellissima, come sempre. È questo che volevi sentirti dire? Mi dice cosa c'è che non va? L'hai incinta. Quando abbiamo rotto con Sergi, ci sono stati dei giorni in cui ho perso la testa. E poi ti dicono, stai tranquilla, mi controllo, tu non controlli un bel niente. Merda. Sì. Sicuriscono. Grazie a tutti.